900 monopattini elettrici a disposizione di cittadini e turisti che preferiscono un mezzo pratico, veloce ed economico per spostarsi nel centro. Saranno collocati progressivamente in un'area di 3 chilometri quadrati tra Piazza del Plebiscito, Quartieri Spagnoli, Chiaia, Mergelina, Santa Lucia e Borgo Orefici, grazie a un bando della durata di due anni indetto dal Comune di Napoli. Il mezzo si preleva tramite l'applicazione mobile gratuita del gestore Helvitz. Raccomandiamo inoltre di informarsi correttamente sulle regole per la circolazione dei monopattini elettrici, secondo quanto disciplinato anche dalla recente normativa sui dispositivi elettrici di mobilità personale. Alla presentazione questa mattina a Palazzo San Giacomo erano presenti il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore con delega alla mobilità sostenibile Alessandra Clemente, che hanno illustrato il percorso per fornire questo servizio alla città che sarà gradualmente implementato a vantaggio anche di altri quartieri, prospettandolo quindi come un servizio facile, efficiente, rispettoso delle regole e del distanziamento fisico imposto dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che promuove una ulteriore modalità di spostamento sostenibile per i cittadini napoletani e rispettoso dell'ambiente.